La crisi tedesca in che misura? Diciamo che la crisi tedesca che è partita già da più di un anno e mezzo ha già penalizzato le crescita che noi abbiamo avuto in questi anni. Naturalmente i dati che vediamo adesso sono ancora più preoccupanti e quindi io penso che facendo parte tutti di filiere integrate avranno anche una ripercussione su di noi. Io mi auguro che sia minima, che sia legata a determinati settori dove purtroppo sono state fatte anche delle scelte forse un po' troppo affettate.